Asmaid Hashem, blogger sul conflitto siriano. In questi luoghi, se c'è un centenario di un'altra guerra, tu hai sollevato il fatto che spesso ci sono anniversari che passano non ascoltati e completamente ignorati. Il 21 agosto è un anniversario terribile, ma nessuno ne parla. Ci vuoi parlare di cos'è il 21 agosto per una siriana? Il 21 agosto per una siriana è il ricordo di un anniversario drammatico. Sono passati ben due anni dall'attacco con le armi chimiche che ha provocato oltre 1500 vittime. Un massacro che si è svolto nella città di Al-Ghuta, vicino alla capitale, Damasco. La maggior parte di queste vittime erano bambini colti nel sonno. Purtroppo all'epoca ci sono state delle polemiche su questo uso di armi chimiche, però poi la questione è finita lì. E oggi che si celebra il secondo anniversario, assistere impotenti a questo silenzio anche da parte della comunità internazionale che non ha reso omaggio alle vittime e non si è fermata per ricordare questi innocenti fa molto male. Le vittime vanno ricordate tutte, i morti hanno tutti lo stesso valore e la stessa dignità. Noi non vogliamo che vengano consegnati all'oblio. Parlaci di come e quando e per quali motivi hai iniziato a seguire molto da vicino con il tuo blog il conflitto siriano e come ne hai vissuto l'evoluzione sia dall'Italia che poi direttamente in Siria. Ma io da giornalista mi sono resa conto che c'era proprio una difficoltà oggettiva nell'avere informazioni di prima mano su ciò che accade in Siria e le motivazioni sono diverse. La prima è che tutta l'informazione in Siria è nelle mani del regime che controlla la radio, la carta stampata, la televisione, quindi si sente solo una campana. Il secondo invece è che dall'altro lato grazie a internet stava nascendo, è nata poi effettivamente una controinformazione fatta dal basso, quindi dai cosiddetti citizen reporter, ovvero giornalisti improvvisati, però gente che è testimone oculare, che attraverso le proprie fotocamere, videocamere, ha cominciato a mettere in rete quella che era l'effettiva realtà della Siria, quindi la realtà di bombardamenti, di interi quartieri distrutti, di gente che fuggiva, di gente costretta a vivere nelle tende. Ho creato il mio blog che si chiama Diario di Siria proprio per cercare di dare una voce in lingua italiana alla popolazione siriana, cercando di guardare il conflitto siriano proprio dagli occhi della popolazione che questo conflitto lo sta subendo. Ho cercato di entrare in contatto con questi giornalisti che ogni giorno riescono a aggiornare sia le statistiche delle vittime che dei bombardamenti, dei feriti dalle varie zone della Siria e tramite questa rete riusciamo a raccontare al mondo quello che sta accadendo. Non è semplice perché le persone che sono laggiù spesso rischiano la vita, infatti anche le fotografie che oggi diventeranno documenti storici di quello che è la Siria sono state scattate da ragazzi che purtroppo non ci sono più perché sono stati colti con le mani nel sacco, ovvero mentre immortalavano una scena oppure mentre facevano delle riprese e per questo puniti. Il nostro dovere di giornalisti è proprio quello di cercare invece di continuare a cercare le notizie là dove le notizie non arrivano, cercare i contatti locali che siano affidabili e poi chiaramente mettere la nostra mediazione di professionisti per raccontare al mondo un conflitto che si sta consumando a quattro ore di volo dall'Italia che ha generato oltre 300.000 vittime, 9 milioni di sfollati e 4 milioni di profughi. Quindi stiamo parlando di un vero e proprio genocidio che non riceve l'attenzione dovuta da parte della politica internazionale ma che a livello di esseri umani, di uomini e donne con una coscienza non possiamo ignorare. Tu hai parlato anche di una Siria che è un esempio di una ricchezza di differenti culture e di differenti etnie, anche di differenti lingue che non solo che coesistono ma che sono anche in costante relazione e in intreccio. Come questo sta venendo colpito dal conflitto? Purtroppo più che il patrimonio di abitazioni, di città o lo stesso patrimonio architettonico di cui stiamo osservando inermi purtroppo la distruzione, quello che ci preoccupa è proprio questo la distruzione del tessuto sociale siriano, di quella coesione tra etnie diverse, tra religioni diverse che in Siria vivevano tutte sotto un'unica grande bandiera che era la bandiera dell'identità siriana. I siriani si volevano bene a prescindere dalle loro diversità. Hai parlato di lingue, in Siria ci sono ancora gli unici due villaggi al mondo dove si parla l'aramaico, quindi c'è una ricchezza che purtroppo questa situazione di stallo, questa situazione di violenza inaudita sta minacciando fortemente. E quello che ci preoccupa è proprio questo, che mentre prima del conflitto era quasi imbarazzante, nessuno chiedeva all'altro di che religione era, oggi invece la deriva settaria è una minaccia concreta e si rischia con la distruzione di questa convivenza, di questa fratellanza che c'era in Siria di veder bruciato per sempre un esempio che per tutto il mondo era sicuramente un riferimento importante. Perché ricordiamolo, le grandi religioni sono nate lì, quindi è una convivenza millenaria, non è una convivenza forzata o che è nata da pochi secoli. E oltre all'aspetto religioso c'è anche l'aspetto etnico, perché la Siria, vuoi per la sua collocazione geografica, vuoi per la natura accogliente del suo popolo, è sempre stata terra d'arrivo per profughi e migranti di altre zone. In Siria ci sono gli armeni, ci sono i kurdi, ci sono gli iracheni, i palestinesi, tante tante etnie. E oggi sono invece i siriani che fuggono, quindi c'è un dolore anche per la perdita di questi riferimenti, di questi valori che costringe poi il siriano ad andare all'estero, ad allontanarsi anche da quelli che erano i suoi luoghi storici o i luoghi delle persone che ha accolto in passato, perché quei paesi purtroppo sono essi stessi paesi in conflitto. Se puoi parlarci brevemente della mostra fotografica e del libro che ci hai portato. La mostra è una collettiva con alcuni scatti che ho realizzato durante il mio viaggio del 2013 e quello del 2014 e altri scatti invece realizzati proprio dai citizen reporter di cui parlavamo prima. Quindi giovanissimi ragazzi di varie città siriane, quindi Homs, Ham, Damasco, con i quali siamo in contatto diretto e che quindi ci hanno mandato queste foto in alta risoluzione proprio per entrare a far parte di questa collettiva. La mostra è stata organizzata dall'Ordine dei giornalisti delle Marche in occasione di un premio giornalistico, proprio con lo scopo di far vedere al mondo, raccontare al mondo delle testimonianze vere, dell'impresa diretta, di quella che è la realtà e la sofferenza del popolo siriano. E io di questo ringrazio molto l'Ordine dei giornalisti perché ha dimostrato una grandissima attenzione e sensibilità a questo tema. Il libro invece è frutto di alcune emozioni, alcune sensazioni che ho voluto catturare su carta. Il linguaggio della poesia è un linguaggio che in situazioni drammatiche aiuta ad esprimere quelle che sono delle emozioni forti, dei ricordi anche drammatici. Il ricavato del libro va in beneficenza. È un libro scritto a quattro mani con un'altra ragazza siriana, lei è giovanissima, 18 anni, una studentessa universitaria che invece conosceva la Siria prima del conflitto perché tutti gli anni tornava a far visita ai parenti. Quindi lei ha il dolore della nostalgia, io ha il dolore di aver conosciuto la Siria appunto con lo sguardo della guerra. Grazie mille per aver partecipato a questo festival. Grazie a voi. Grazie a voi.